Tua cugine! Dove sta tua cugine? Sai cammi? Cinque minuti arriva! Eh già! Ha detto cinque minuti e sta qua! Ma che c'entra? Tu non puoi capire certe cose! Lui è un tipo molto impegnato! Qua è famoso nel campo della pubblicità! Sai che fai lui qua? No! Comunicazione e macchina! E' lui! E' lui! E' lui! E' arrivato! Andiamo! Prendiamo! Andiamo! Di qua! Enzo! Di qua! Comunicazione e marketing! Quell'altro è che manifesti! Enzo! Ah si! Oh! Come stai? Come stai Enzo? E se tu sei Enzo, tu sei la sposina! E' logico che sono la sposina! E' logico che posso mai essere! Che siamo qua da cinque o sei ore a aspettare a te come due poveri sfortunati! E la mamma di questo che chiamo è questo cretino che dice lo stazionamento e invece no era l'aereo! E' la lattina che per l'improvviso si mette a giocare e me la dà dietro la testa e allora ci ho buttato la posta! Ma pochetto! Un bacio tu! Un bacio tu! Un bacio tu! Complimenti per la scelta! E' un bacio! No! Vi farei una faccia così a tutti e due! Andiamo! Dai! Allegria! Sì! Dai dai! Vi do una mano! Su ragazzi! Revali! Sì! Vi do una mano! Piano piano! Si! Si rompe! Ma pure questa! Quando uno dice ti do una mano è perché mi fa un po' perù! Va bene! Non preoccupare! Dai! Andiamo! 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 Prego! Andiamo! Andiamo!